Un'altra scuola vicentina è costretta a chiudere i battenti a causa della pandemia, non uno o più classi, ma l'interoplesso che ospita le medie di Laghetto, popolosa frazione a nord del capoluogo di Vicenza. La decisione è stata presa nei giorni scorsi di concerto tra Istituto Comprensivo di Riferimento Comune di Vicenza e Ulso Ottoberica, dopo la comparsa di più casi di contagio tra diverse classi. Sono nove in tutto quelle che si trovano temporaneamente a casa a partire da ieri e dopo le mini vacanze coincise con il Ponte dell'Immacolata, attivata come da protocollo la didattica a distanza per garantire la continuità didattica per un periodo di isolamento preventivo di 10 giorni, al termine dei quali gli studenti saranno sottoposti al tampone rapido prima della riammissione in aula. Si tratta della scuola secondaria di primo grado Gian Giorgio Trissino che sorge in via Lago di Levico. La ripresa delle lezioni in presenza è prevista per giovedì 17 dicembre. Grazie per la visione!